I conferimenti di rifiuti organici in impianto sono stati ridotti in conformità alle disposizioni trasmesse agli enti e proseguiranno fino alla conclusione delle attività manutentive. La società trasmetterà specifica comunicazione di fine lavori attesa non oltre il 17 settembre. E' quanto si legge nella lettera inviata da EcoProgetto SRL al primo cittadino di Albaerate, Flavio Crivellin, in merito ai lavori sul biofiltro. Tradotto significa che i cattivi odori provenienti dall'impianto di compostaggio avrebbero le ore contate. I fenomeno dei rigini si presentano ogni anno, in particolare d'estate, dessando il malcontento della cittadinanza quest'anno in modo particolare. Tanto che anche il sindaco Crivellin si è detto arrabbiato di quanto la cittadinanza è costretta a subire, da qui la richiesta di intervento di ARPA e città metropolitana per trovare una soluzione. Nelle scorse settimane dunque la decisione è concertata di ridurre del 30% il conferimento dei rifiuti in attesa della conclusione dei lavori per la sostituzione del biofiltro, che dovrebbero, conferma l'azienda, terminare giovedì, mettendo tutti si augurano fine ai cattivi odori.